Ciali, andiamo! Ha detto che dobbiamo stare dentro il... Hai spaccato il calcio, Ivra? Si, no, all'inizio, quando... La prima giocata era quando l'ho comprata Minchia! Come hai fatto? Buttando... saltando Staccato tutto il peccino Comunque, oh, zio Non è che l'abito devi dire però dove cazzo sono le postazioni Io me l'ho colpito, quello di Farbello Il ragazzo stai colpendo l'albero Ma quello è sotto la gomma Non è che gli puoi dire dove cazzo sono io Sotto la gomma Perché hanno lamentato che sei fuori di campo Quindi lui ha detto no Lui ha detto che la gomma è lì e sono dentro il campo E l'albero gli ha detto guarda che tu stai colpendo l'albero Il ragazzo è sotto la gomma Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Guarda che cazzo è dentro la gomma Che cazzo fai? 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 Oh no, eh, vi Complimenti per me Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Ok, Marco Allora è bellissimo Vi allargo un po' il perimetro Ascoltate ragazzi Vi allargo un po' il perimetro Perché ho visto un po' i troppi tappamenti E poi i troppi cacchini Potete utilizzare tutto il fianco della serra Della serra che c'è dietro Sì 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 La capanna Questa parte della capanna Questa parte della capanna No La stalla no Non dall'altra parte Alla sinistra Fino ad arrivare dritto qua Che arriva proprio a linea con quel muro lì Sì La linea è quella La linea è quella del muro Vi allargo questa zona qui Visto che ci sono dei problemi Sotto gli alberi No vabbè Io ho richiamato la vostra squadra Le hai fatte rientrare Infatti è stato corretto Poi mi hanno detto no C'erano uno degli altri Io non l'ho visti Però No la gomma era lì Infatti ho detto Infatti ho detto Infatti ho detto Si va che sono sotto la gomma Non sono lì Però vabbè Ok Dato che ci sono dei problemi Apri un pezzo Fine Ok va bene Voi lo un muro Non potete sbagliarvi No perchè No Avete visto loro Io ero sdraiato Si si l'ho visto io Io non lo so La vedevo da sopra Loro quattro lavorano bene Quindi li lasciamo stare Allora Bene Mi raccomando Non dall'altra parte ragazzi Perché sennò ritorniamo da capo Ok Poi dopo le altre giocate Liberi Ok Questa è soltanto per sfruttare la parte centrale Ok Grande va Ragazzi mi formate dei gruppi da quattro li mantenete Mi formiamoli qua però Eh Infatti Però guardatevi ragazzi Sì 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 Gruppi da quattro ci siamo? No Io faccio gruppi da uno Un minuto Un minuto e si parte Oh ragazzi Mantenete il gruppo da quattro Qualsiasi cosa fate Cercate di mantenerlo Perchè se vi aprite Siamo fatti Allora c'è già un gruppo che andrà di qua eh Chi è? Tutto al più ne facciamo partire un altro dopo In culo In maniera che Partiamo noi da lato Di là Volete fare il secondo gruppo dietro loro? Loro vanno giù di là Ragazzi non potete andare di là Dovete stare di qua Andiamo di là noi Seguiamo noi Allora aprono loro che sono in cinque Sì Guardami Muro Guardami Loro Sono dietro di voi Ok Quindi comunica con loro eh Tutto al più l'ultimo Fai in maniera che si vedano con loro Ok E gli altri fate quello che volete L'importante che noi andiamo là Andiamo 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 Facciamo un attimo partire Mantenete i gruppi Mantenete i gruppi Questi sono in tre Io vado con loro Andiamo 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 Andaro Um Andiamo Da detto Perché nessuno copre Guarda Io sono arrivato fino a là Fino al torre là Sono arrivato fino alla torre là O no ho fatto il giro da dietro Non so come ho fatto a passare da dietro La dichiarazione è che questo Se tu vai avanti ti copro io, se vengo avanti io tu mi copro, perché se tu vai avanti io non ti copro, tu non mi copro... Io sono appena entrato e ho fatto fuori due da quel lato, quindi basta, non c'è nessuno. Poi lo metti su YouTube, questo coso? Si, sul Facebook. Si, si, si. Poi così vedo se funge. Allora, eccola, così fermiamo.